Per caso in fase di accertamento, intorno alle ore 20 e 30 di giovedì 20 febbraio, un uomo è stato investito nella nuovettura a Vicoforte, mentre passeggiava con il suo cane. L'incidente stradale è avvenuto in via Gagliano, a poca distanza dalla casa di riposo. All'immediato intervento sul posto degli operatori del 118 è seguito il trasporto del ferito all'ospedale Regina Monti Sergalis di Mondovì, luogo che era giunto in grevi condizioni. Per consentire i soccorsi, la Polstrada diceva che ha dovuto bloccare il traffico locale in entrambe le direzioni di marcia. La Giunta regionale del Piemonte, riunitasi il 19 febbraio in seduta straordinaria, ha deliberato di interporre ricorso in Cassazione verso la sentenza del Consiglio di Stato contenente le motivazioni che hanno portato all'annullamento delle elezioni regionali del 2010. Ciò non avrà alcun effetto dilatorio e sospensivo nei confronti delle pratiche per indire le elezioni regionali in concomitanza con quelle europee. Mercoledì 19 febbraio, un truffatore seriello di 33 anni, nato a Milano e residente a Verdello in provincia di Bergamo, è stato arrestato ad Almine, dai carabinieri. Servendosi di un documento contraffatto che riconduceva l'identità di un cittadino di Canale, l'uomo acquistava auto usate da privati cittadini, pagandole sempre con assegni scoperti. A suo carico sono state presentate 36 denunce per truffa, ma risultano anche 7 denunce per minarci dati persecutori, 6 per uso di atto falso, 3 per insolvenza fraudolenta e 2 per sostituzione di persona. I militari sono giunti alla sua identificazione e dalla sua cattura, dopo che l'uomo si è presentato in una residence di Dalmine, mostrando per l'ennesima volta una carta di identità fasulla. Il proprietario insospettito ha effettuato controlli incrociati con l'amministrazione comunale di Canale ed ha scoperto la verità. Il 33enne si trova ora in carcere e sarà processato per direttissima.